Dietro di me c'è un orto straordinario, siamo in un rinomato ristorante della zona collinare che ha da anni un orto dove regnano soprattutto moltissime erbe che i cuochi la mattina si vengono a prendere in funzione dei piatti o meglio fanno i piatti molto spesso anche in funzione delle erbe che hanno a disposizione. Quindi parliamo di erbe, parliamo di agricoltura biologica, parliamo di un produttore di Pavia di Udine che si chiama Killer Macora che ha 13 ettari di coltivazioni biologiche, lui è esattamente all'Auzzacco, comune di Pavia di Udine, che insieme a sua moglie Maria Cristina che segue le vendite questi prodotti li trovate nel mercato di Udine in piazza 20 Settembre con la Coldiretti, li trovate sempre a San Nicolò di Manzano il venerdì, lui ha 13 ettari che coltiva in maniera biologica, biologica vuol dire in particolare non usare prodotti che non siano organici, tant'è vero che lui ha la filiera completa ha delle manze, ha 15 manze a rotazione che gli producono l'etame, l'etame lo fa stagionare con l'etame concima e quindi tutti questi procedimenti che portano sul tavolo dei prodotti che sono sani che sono fatti bene, soprattutto sono fatti bene ma sono anche curati, biologico non vuol dire che il prodotto deve essere brutto da vedere, può essere bello da vedere e buono da mangiare, non sono due negazioni ma sono due aspetti che vanno insieme, poi questa stagione è l'esplosione dell'orto e vorrei soffermarmi per quanto riguarda l'orto sull'importanza delle erbe. La nostra regione è una regione che ha una varietà di erbe straordinaria, ne ha più di 2800, 2875 mi pare ci siano, se pensate che poi la Germania che è tanto più grande del Friuli ovviamente ne ha 2200, un patrimonio enorme che la cucina moderna che ha le radici nella tradizione ha riscoperto perché usando l'erbe in cucina si dà sapore, si dà profumo ma non si mettono i grassi e questa è una riscoperta perché i nostri vecchi l'avevano capito che viene fatta, perché? Perché il sapore in effetti è profumo, fatto 100 il sapore l'80% è profumo, se noi toppiamo il naso sappiamo che la minestra sembra senza sale ma in effetti è salata, siamo noi che non sentiamo gli aromi. Allora le erbe, sulle erbe officinali, sulle erbe aromatiche, se pensiamo ai risotti, se pensiamo alle frittate, si possono nobilitare degli ortaggi semplicissimi, anche poveri, come le zucchine per esempio, se voi prendete la zucchina vi leggo un passaggio di questa ricetta simpatica che poi è molto molto estiva, si prende la ricotta fresca, un uovo, sei foglie di menta, si fanno raffreddare le zucchine, si frulla questa ricotta con l'uovo e la menta, poi si svuotano le zucchine, si riempie le zucchine con questa crema, si passano al forno e voi avete, si possono servire fredde per aperitivo, per antipasto, avete un prodotto semplicissimo, fresco, piacevole, unico, leggerissimo e che non costa nulla.